ciao a tutti oggi prepareremo lo yogurt fatto in casa il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più il tempo di fermentazione gli ingredienti sono latte intero e yogurt bianco diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccare il latte intero ed azionare il bimbi con il cestello al posto del misurino per 10 minuti 100 gradi velocità 3 lasciare raffreddare nel boccale fino a quando non raggiungerà i 37 gradi il latte ha raggiunto i 37 gradi adesso aggiungiamo lo yogurt ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 4 per chi non ha il bimbi tm 6 avvolgere il boccale in una coperta e lasciare riposare per 12 ore per chi è il bimbi tm 6 impostare la modalità fermentazione per 10 ore a 45 gradi amalgamare con la spatola trasferire in barattoli di vetro e riporre in frigo per almeno due ore prima di essere utilizzato yogurt fatto in casa si conserva in frigo chiuso in barattoli ermetici per 7-8 giorni grazie e alla prossima ricetta ciao 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 ciao